E' un bellissimo maschietto, il primo nato a Taranto del 2017. Si chiama Gabriele, è nato poco dopo la mezzanotte, all'1.40, all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Pesa 4,8 kg, e sta benissimo, ed è lungo ben 54 cm. Il primo nato ha origini grottagliesi, suo padre è un giovane carabiniere e sua madre è una casalinga. E' nato nel reparto di ostetricia dell'ospedale Tarantino, Gabriele dunque ha fatto prima di tutti davvero in fretta. Ed è il primo nato del 2017, per la gioia dei suoi genitori è venuto alla luce al termine di un parto normale. Tutto è andato bene. Un applauso anche all'equipe medica del nosocomio Tarantino, sempre pronta per qualsiasi necessità.